ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e anche oggi parleremo di energie alternative e allora come retto dal titolo parleremo nello specifico di diodi nell'impianto fotovoltaico cosa sono ragazzi dio di perché sono importanti perché devi utilizzarli allora il diodo è un componente elettronico elettrico un semiconduttore progettato per essere monodirezionale ok attraversato da corrente se la corrente lo attraversa così lui conduce cioè fa scorrere senza problemi la corrente se la corrente però lo vuole attraversare per il verso inverso lui guarda anche la sua forma vedi questo si trasforma in un muro un muro che blocca l'accesso di corrente e allora il diodo viene utilizzato nel fotovoltaico si già in origine alla produzione tutti i pannelli solari fotovoltaici hanno uno o più diodi montati nella cassettina retro dove ci sono i cavi e allora andiamo a vedere uno schema di un impianto fotovoltaico o meglio una stringa fotovoltaica allora questo è un pannello questo è un pannello questo è un altro pannello questo è un altro pannello 12 e 12 24 24 24 48 volte qui abbiamo polo negativo qui abbiamo polo positivo e allora come si collegano o come sono collegati diodi dentro ai nostri pannelli solari fotovoltaici così ragazzi sono connessi in parallelo tra il polo positivo di uscita e il polo negativo di uscita eccole qui ok qui ne disegniamo un altro ok e qui ne disegniamo un altro perfetto questi sono quattro diodi uno ogni pannello solare fotovoltaico però tanti pannelli anche quelli di ultima generazione viste le grandi potenze visto l'aumento della portata di ogni modulo fotovoltaico monta più di un diodo appunto per poter dissipare far scorrere al meglio la corrente a cosa servono questi diodi ragazzi servono a proteggere il pannello stesso su correnti inverse la corrente cerca la via più semplice perciò non passa più da qui ok ma passa da qui il diodo di bypass a tutti gli effetti ti bypassa il pannello solare per esempio si rompe una cella interna al pannello c'è un malfunzionamento il tuo impianto ti continua a funzionare anche se uno dei pannelli si è rotto lui continua a funzionare perché perché il diodo mette come se fosse in corto circuito cioè crea una via alternativa alla tensione è normale però che quella è quella serie di pannelli avranno una tensione minore cioè tu se hai un quadro fatto per bene andando con dei puntali a misurare ti accorgerai dell'anomalia però alla fine funzionerà tutto al posto di prendere per esempio succedere un incendio avere problemi più grossi così facendo hai un bypass vero e proprio sul pannello poi ragazzi abbiamo un altro diodo anche questo importantissimo qua disegniamo nuovi pannelli sempre 4 e in più mettiamo un bel diodo alla fine disegniamo un'altra stringa sempre con pannelli per esempio da 12 volt però possono ovviamente essere pannelli a 24 a 40 volt in base voglio ovviamente alle necessità dell'impianto che si sta andando a realizzare eccoli qua questo è questi ovviamente connessi in parallelo ragazzi questo è il mio impianto fotovoltaico con una due tre stringhe poi parallelate parallelate per mezzo dei diodi perfetto il funzionamento ragazzi è simile a quello che abbiamo visto prima i diodi questa volta però sono più grandi come portata come potenza e vanno messi quindi uno per ogni stringa di uscita questo perché perché se questa stringa per esempio mi è un totale di 12 12 24 e 24 48 volt ok perché bella soleggiata stanno producendo 48 volte questa pure 48 volt produce bene questa per colpa di quel balcone ok è a ombra questo pannello a ombra non è 48 volte la produzione di questa stringa ma è per esempio 30 volt ok 30 volt cosa succede ragazzi dovete capire che quei nei paralleli la tensione maggiore vince ok nelle connessioni di più impianti la tensione più alta è quella che spinge ok anche per esempio i caricabatterie come funzionano un caricabatterie di una batteria lirio anche quella del monopattino della bici elettrica la batteria si mettiamo il caso che scarico ok perciò a 30 volt quando io vado ad allacciare il caricabatterie il caricabatterie automaticamente legge quanto è la tensione della tua batteria 30 volt cosa fa manda sullo spinotto in uscita 31 volt ok 31 volt e più di 30 volt perciò la tensione esce e va a ricaricare la batteria capito poi ovviamente man mano man mano man mano alza il valore fino ad arrivare per esempio a 54 volt e la batteria ovviamente deve essere una 48 volt era per farti capire che le tensioni maggiori vincono le tensioni più basse senza il diodo a protezione dell'impianto questo 48 volt cosa avrebbe fatto ragazzi corrente inversa avrebbe attraversato tutti i pannelli facendo non pochi danni idem ma anche qui perché poi si sommano sono due stringhe contro una è normale che qua vai a rompere tutto bruciare tutto per evitare questo i diodi servono per bloccare le correnti inverse se questo mia vita 30 volt questo non mi può buttare dentro tensioni più alte mi produrrà meno perciò il mio pannello solare il mio impianto solare e mi produrrà meno voltaggio però con questo io mi salvaguardio la mia stringa poi ovviamente c'ho gli altri dio di che sono qui tutto in parallelo ad ogni modulo solare fotovoltaico per tutti e perciò questo è l'uso delle dei diodi negli impianti fotovoltaici diodo di bypass e diodo di blocco ok diodo bypass e diodo blocco ragazzi questi questi ci sono in origine su tutti i pannelli anzi controlla che i due pannelli che vada acquistare ce l'abbiano e questo lo dovrai andare a mettere sono dei componenti da mettere nel pannello nel quadro ecco quadro elettrico dell'impianto fotovoltaico vai a mettere la cavetteria capi tutto e poi in uscita ci va qui per esempio positivo negativo mi metto un regolatore di carica un inverter qualsiasi cosa che ti vada a gestire questa tensione generata dai tuoi pannelli solari fotovoltaici ragazzi se siete interessati a pannelli solari fotovoltaici vi ricordo sempre la collaborazione tra fox tech channel cioè il mio canale e i massimi produttori di impianti solari fotovoltaici pannelli solari fotovoltaici e non solo anche batterie anche inverter sul mio canale telegram troverai tantissime offerte e promozioni per i pannelli fotovoltaici nello specifico se stai cercando nuovi pannelli o vuoi fare un nuovo impianto fotovoltaico per esempio monocristallini da 360 370 400 410 540 watt ogni pannello io posso aiutarti perché perché fox tech channel ha stipulato degli accordi con i massimi produttori asiatici sono produttori ragazzi che hanno base in perciò spedizioni molto veloci tariffe e dogane quasi nulle oltre che il prezzo della spedizione e costo del pannello solare ragazzi davvero davvero eccellente dal produttore al consumatore contatta la mail sotto e ti spiegherò come fare per ordinare i due pannelli solari fotovoltaici dal nostro sponsor ufficiale ragazzi niente per questo video è tutto se ti è piaciuto se ti è stato utile un like commenta fammi sapere sotto e iscriviti al canale se non lo hai ancora fatto ciao e al prossimo video